La filiera lattiero-casearia, tanto importante per il Veneto, sta vivendo un momento molto complicato. L'aumento delle spese e dei costi incide sulle stalle, sui caseifici e in generale su un mondo che sta cambiando pelle per rispondere alle esigenze di una congiuntura storica di grande impatto. I consorzi fanno da ombrello e da stella polare in questo caso. Da un anno a questa parte i nostri allevatori e produttori stanno facendo i conti con dei costi che sono decisamente aumentati. Basti pensare a mais e soia che incidono più di tutti come componente nella razione alimentare. Ebbene, il prezzo rispetto a marzo-aprile del 2021, anzi basti tornare indietro in un anno, è aumentato. È aumentato il costo del gasolio agricolo, non serve che dica niente sui costi dell'energia perché ne paghiamo le conseguenze tutti noi, tutti i giorni. Sono aumentati i costi di logistica. Nuove domande impongono nuove risposte. Questa situazione ci costringe a trovare soluzioni diverse dal passato, non potendo contare sugli automatismi che c'erano una volta. E quindi stiamo cercando nuovi canali, nuovi mercati e nuovi paradigmi comunicativi per promuovere e valorizzare ancora di più e meglio l'Asia Godop. L'export diventa in questa fase una voce fondamentale nel bilancio delle aziende venete. Stiamo cercando di recuperare contributi per spingere l'export, contributi comunitari. Stiamo impostando progetti importanti al di fuori dell'Europa, anche col mondo dei vini ad indicazione geografica. E l'export quest'anno sta segnando per fortuna un più 5% in quantità e un più 10% a valore. Il comparto primario del Veneto e la filiera lattiero casearia nostrana hanno sempre avuto nel loro DNA la capacità di rispondere egregiamente alle sfide del futuro. E pare che anche stavolta la risposta sia incisiva. Ci sono aziende diciamo sotto pressione maggiormente rispetto al passato, però ci sono anche aziende che stanno sfruttando la congiuntura e quindi il minore afflusso di prodotto dall'estero per recuperare quote di mercato. Ecco, quindi noi cerchiamo di vedere l'aspetto positivo della situazione e quindi il minore afflusso di prodotto dall'estero per recuperare quote di mercato. Grazie a tutti.